Le continuo a ripetere, io per il momento ho notizie da parte giornalistica, da parte vostra, quindi non so quali sono i contenuti di questo atto e quindi lo analizzerò, lo studierò e lo approfondirò. Ha deciso di esserci lo stesso l'ormai ex manager dell'Aslu, Roberto Testa, alla conferenza stampa per la donazione di un ecografo da parte dell'Aquila per la vita a terapia intensiva. Ultimo atto della sua attività perché dopo vari rinviglieri si era la giunta regionale e lo ha silurato con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto e con il quale i rapporti erano inclinati da tempo. Una serie di richiami da parte della regione fino al dossier di Claudio Damario che ha mosso a testa una serie di contestazioni legate alla gestione Covid ma non solo. A farla da padrone anche le beghe politiche e la rottura con la Lega, poche righe per dare il ben servito e nominare il nuovo manager Ferdinando Romano con una lunga esperienza come dirigente sanitario e docente universitario e tecnico in quota Lega che alla fine ha avuto la meglio evidentemente su Fratelli d'Italia perché la questione era abbastanza chiara, si è giocata anche sul filo politico ma la vicenda potrebbe avere strascichi di carte bollate con eventuale ricorso e richiesta di risarcimento. Intanto l'ecografo donato dall'attivissima associazione Aquilana è solo l'ultima iniziativa di una lunghissima serie. Un ecografo che è costato quasi 50.000 euro e che segue la donazione di un altro ecografo che abbiamo donato invece a malattie infettive al dottor Grimaldi. Questo è di competenza diciamo così del dottor Marinangeli ed è un altro tassello in positivo che l'Aquila per la Vita mette a favore della sanità della nostra città. Occasione per fare il punto Covid con il professor Franco Marinangeli, il primario. La vaccinazione, la campagna prosegue con successo, preoccupa la variante Delta perché non ci sono dati per capire se elude i vaccini ad ogni modo sul territorio. Questo oggi non rappresenta un problema, dice Marinangeli. Intanto per quanto riguarda la campagna di vaccinazione sicuramente siamo avanti, siamo ben posizionati anche rispetto a un'ipotetica classifica nazionale e questo mi fa molto piacere. Evidentemente il sistema è stato efficiente e responsabile. Il discorso delle varianti preoccupa certamente, preoccupa sempre perché ogni volta che viene fuori una variante non si sa mai se quella variante risponde al vaccino o meno. E quindi si tratta poi di testarla sul campo. Al momento sembra che tutte siano, diciamo, responsive alla vaccinazione e quindi non desta preoccupazione. Però la prudenza è d'obbligo, è d'obbligo proprio per i motivi che stavamo dicendo.